Si allontana Cialanoglu, batte Riccardo Rodriguez, pronto alla battuta, eccolo qua il traversone in mezzo, li vedo un tiro in porta con i pugni, Cici, Suso, Pjanic, Pjanic, pallone sopra la traversa, c'è una deviazione, primo calcio d'angolo del match, Abate, Abate vuole il traversone, eccolo qua il cross in mezzo a cercare Cialinic, colpo di testa, palla fuori, l'uno contro uno, quadrato verso Dybala, attenzione, Dybala, la parata di Donnarumma, tiro nello specchio della porta, il primo per Paolo Dybala in due tempi, Gianluigi Donnarumma, Pjanic dentro a cercare Dybala, attenzione va Paolo Dybala per Higuain, vai pipita, Higuain, Gonzalo, Higuain, la Juventus è in vantaggio, al minuto numero 23, il centesimo, gol in Serie A per Gonzalo Higuain, Pjanic arriva alla scala del calcio, qui a San Siro, Milano 0, Juventus 1, devastante il pipita, devastante! Il calcio del numero 11, attenzione a Borini, Borini in mezzo, non ci arriva Kalinic, rischio enorme per la porta di Gianluigi Buffon, gran palla di Borini. Intanto palla per Riccardo Rodriguez, sfera sul mancino, il traversone in mezzo, deviazione Kalinic, attenzione, Kalinic traversa, poi c'è la no-glue di testa, la chiusura di Rugani, incredibile occasione per il Milan, incredibile occasione per la formazione rossonera, proprio nel 45esimo. Gioco a memoria le Juventus quando sventaglia da una parte all'altra, Di Bala, attenzione a Paolo, grande numero, Di Bala, Di Bala, palla sopra la traversa, una buona opportunità per Paolo, grande movimento ad evitare la pressione di Biglia, ad evitare Borini, attenzione all'azione di Asamoah, dentro verso Di Bala, Higuain, Valpipita, Higuain, attenzione, Higuain! E' Gonzalo, Higuain, il raddoppio della Juventus, minuto numero 18 del secondo tempo, destro, terrificante di Gonzalo Higuain, 2-0 e la doppietta è servita a San Siro, devastante Gonzalo! Azione stupenda della Juventus, bravi a crederci, fine in fondo su questo pallone, su questi movimenti, è micidiale il Pipa! Traversone fuori, attenzione, Di Bala, parata di Donnarumma in due tempi, la gran botta, quella di Paolo Di Bala al volo!